Non solo il degrado presente a ridosso della scuola del quartiere di Santa Petronilla, ma anche le pessime condizioni della strada. Una bretella peraltro molto trafficata perché rappresenta una scorciatoia per chi dalla statale 16, provenendo da sud, decide di raggiungere la vecchia statale 150. A sollevare il problema è l'ex sindaco di Roseto, Egno Pavone, che chiama in causa l'amministrazione comunale che per adesso, tra le cose da fare, non ha previsto il rifacimento del manto d'asfalto. Alla faccia della città pulita, sicura, ordinata che dice di Girolamo. Abbiamo visto adesso il degrado che c'è di fronte alla scuola elementare e io voglio sottolineare anche il problema di questa variante alla 150, di questa sede stradale che è oramai ridotta ai minimi termini. Le condizioni di quest'arteria comunque erano pessime anche nel periodo dell'amministrazione di centro-destra, quando appunto al governo c'era la giunta guidata proprio da Pavone. È vero, era rovinata anche quando facevo il sindaco io, però noi avevamo fatto un piano asfalti, approvato tre mesi prima della fine della nostra consigliatura, in cui era previsto il rifacimento del manto stradale su questa arteria molto importante e molto trafficata. Il consigliere comunale di opposizione va giù duro nei confronti del primo cittadino rosetano. Lo accusa di aver fatto promesse in campagna elettorale che oggi non ha mantenuto, ma che oltre un anno e mezzo fa gli permisero di vincere al ballottaggio. È la dimostrazione, dicevo, di quell'applicazione reale di quelle che erano le sue promesse elettorali. Questa è una città pulita, ordinata, sicura, basta farsi un giro e sta vedendo con dimostrazioni di fatto come è ridotto il territorio. E parliamo solo di una frazione, potremmo fare il giro di tutti gli altri.